Un saluto amici di Simonelle, benvenuti in questo nuovo video E vai, vittoria del Milan però sofferta amici Perché non possiamo prendere due gol dal Frosinone che è quattordicesimo C'è grandi talenti come Barrenecea, Arroi, Romagnoli, Mazzitelli, Turati e Compagnabella, Caio e Giorge, Sule Però, comunque sono quattordicesimi e noi siamo il Milan che è terzo Allora, analizziamo prima di tutto la partita con tutti i giocatori Allora, l'MVP prima di tutto tra Giroud e Jovic, vi dico subito Giroud Allora, Mignan, che lo vedete anche qua, qui vedete Io e Mignan quando sono entrato in campo Potete recuperare anche il video nel mio canale YouTube Mignan ha fatto partita da 5 e mezzo o 6 meno Perché sul gol, secondo me, a parer mio, non poteva farci qualcosa Ma è stato anche ingannato dal rimbalzo Poi passiamo alla difesa che è stata top A parte Calabria e Teo che non sono andati bene per me Gabbia, top top, il nuovo Barzaghi Chier, sì e no Florenzi ha fatto quel che doveva fare, 6 Poi il centrocampo, Lottus Cicmale Reinders benino, purtroppo salterà la partita contro il Napoli Perché è difidato Invece poi Ben Nasser Si vede che Mignan ha qualcosa in più quando c'è lui in campo Da ritmo a tutte le azioni Recupera i palloni Quindi top Ben Nasser Poi Musa Fisico come che si Tiene palla Avanza, velocità Riesce anche a dribblare Bene Jovic, una zanzara come dice lo Zandrea La prima palla toccata a Pem, subito in rete Fa il lavoro che deve fare una seconda punta Una punta di riserva Fa il suo lavoro Bravissimo Leao top 7 Ottimo lavoro Ha fatto le sue sgroppate Bello l'assist per Giroud Ottima partita Pulisic ha fatto qualche incursione Belle le due palle per Calabria Che però non è riuscito a sintetizzare l'azione Quindi tutto sommato Le due ali molto bene Soprattutto leao Poi c'è Okafor Che non ha fatto benissimo Però vabbè comunque Gliela facciamo passare 6 E poi il nostro Giroud Che è ritornato al goal Perfetto Ha fatto un'ottima sponda di testa Così Pem e gabbia Pem deve solo incornare De in rete E questa era l'analisi Ora passiamo più agli amici Anzi mi sono dimenticato di Adli Adli e Renders insieme Non vanno bene Adli e Renders insieme No Per fortuna è tornato Ben Nasser Quindi Adli può accomodarsi in panchina Quindi Pioli Non possiamo dargli insufficienza Perché ha vinto E non possiamo neanche dare un voto troppo alto Perché ha subito due gol dal Rosinone Quindi 6 più Gli do un 6 più MVP come ho detto prima Il nostro Giroud Jovic secondo Ottima partita da parte Dei nostri due Delle nostre due punte Anche Leau ci stava però Non ha fatto gol Però ha fatto assist Quindi bene E invece Abbiamo un grosso problema amici Perché Adli e Renders Non possono essere messi insieme Allora vi spiego Perché l'off to stick Lì Tra le due ali Ci sta Ottimo Perché almeno può Andare dritto Quando magari Giroud sta recuperando un pallone indietro Fa da sponda Magari Ben Nasser recupera Adli recupera un pallone La passa Giroud Giroud fa da sponda di tacco Per Il nostro L'off to stick Che fa un paio di dribbling La passa Leau Leau fa il cross Pulisic è in mezzo Oppure Leau tira Oppure viceversa Pulisic rientra e va al tiro Leau rientra e va al tiro O uno delle due ali Tutte e due crossano Però Adli e Renders Insieme no Perché Renders Non ha Lo stesso stile di gioco di Adli Perché Renders È più propenso A andare verso l'avanti Cioè È più propenso Verso dribblare E non torna spesso Non torna quasi mai indietro Invece Adli È Un osso duro Che dietro Difende Quindi Secondo me Si dovrebbe Dovrebbe mettere Pioli Ben Nasser E Renders Tutte e due dietro Così Ben Nasser Sta lì A recuperare i palloni E lì da Renders Che va Avanza Poi davanti Ci sono le tutte Alternative E poi Ben Nasser Può anche avanzare Quindi questo È il quadro Della situazione Amici Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo di mettere Tanti pollici in su Zero pollici in giù Fate un mondo Di visualizzazioni Iscrivetevi al canale Casfable Casfago su Whatsapp Vi lascio il link In descrizione E anche il suo sito web Ciao Ciao